Ecco, buon sabato della Madonna. Benvenuti fratelli al nostro incontro con la parola quotidiano. Siamo al quarto sabato del tempo di Pasqua, già concludendo questa settimana che l'abbiamo chiamata la settimana del buon pastore, no? Continua il nostro percorso con il libro degli Atti degli Apostoli al tredicesimo capitolo, questa volta con i versetti dal 44 al 52. Ascoltiamo attentamente. Dice, il sabato, seguendo quasi tutta la città di Antiochia, si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con le parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono, era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sovillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono del loro territorio. Allora essi, scosa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Eccoci, noi ci troviamo giustamente in un percorso molto importante per la nascente comunità cristiana. Siamo nella città di Antiochia. Antiochia d'Episidia, come l'abbiamo detto alcuni giorni fa, è stato il primo posto dove questi seguaci di Gesù sono stati chiamati cristiani. Però c'è una particolarità, lo dicevo ieri. La pedagogia o la metodologia di Paolo era andare prima nelle sinagoge, andare tra i giudei, cioè andare praticamente con i suoi, con i propri del popolo di Israele. Però che cosa è successo? Sono questi i primi a rifiutarlo. Sono questi che non hanno voluto ascoltare. Perché? Perché sta dicendo qualcosa di molto difficile di capire. Senza lo Spirito Santo non si può capire assolutamente nulla. Cioè che la salvezza possa essere, anche per i non credenti, anche per i non ebrei, una cosa che non è possibile. Ecco perché quando loro sono andati al sabato nella sinagoga, vi ricordate? Alzata la mano, chiedevano e davano l'occasione per poter dire qualcosa, rispondere, questa risonanza della parola. Però dice che cosa è successo? Si radunò per ascoltare la parola del Signore. A me piace questo perché loro dicevano, il libro dice, non per ascoltare loro, ma per ascoltare la parola di Dio, la parola del Signore che loro proclamavano. Quando videro questa moltitudine, che cosa è successo? I giudei furono ricolmi di gerosie e hanno cominciato a inventarsi qualcosa contro Barnaba e contro Paolo. Che incredibile, no? Chi teoricamente è pieno di Spirito potrebbe o dovrebbe riconoscere che questi non stanno parlando sciocchezze, se no che questi, quello che stanno dicendo, sono cose belle, cose della parola di Dio, non sono contro il magisterio, contro gli insegnamenti della Torah. Ma nonostante questo, questi che sono, dice, si sono ingelositi. Che brutto, no? Sentire gelosia perché l'altro si converta, sentire gelosia perché l'altro possa godersi della parola, sentire gelosia perché l'altro si possa convertire, è una cosa molto bruttissima. È segno di che non hanno lo Spirito del Signore, non hanno lo Spirito Santo, se no che l'altro Spirito, della brutta bestiaccia. E che cosa è successo? Hanno rivolto un po' la gente, come al solito, i più, i più poderosi, i più importanti della città, i più ricchi, no? Per andare contro di loro. Ecco perché a me mi riempie di gioia perché loro hanno continuato ad annunciare, non annunciarsi a se stessi. La conversione, fratelli, porta non che tu ti annunci quanto bello, quanto intelligente, quanto importante tu sei, se no le opere che il Signore fa nella tua vita. Questa è la bellezza, poter proclamare quanto è grande il Signore nella tua vita, nei fatti concreti. Cioè quando tu dici, beh, io con le mie forze io non posso fare niente, io non posso perdonare, è impossibile per me amare quello che mi ha fatto del male o quello che mi ha fatto del male a quelli che io amo o a quelli che mi distruggono, che non mi ringraziano, che non mi pensano, no? È difficilissimo. Certamente senza la grazia di Dio nessuno lo può fare, ma con la potenza dello Spirito Santo c'è importante gridare, vieni, Santo Spirito, su di me, ma non perché io possa essere importante a predicare, a fare non lo so che miracoli, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo tredicesimo. Qualcosa spettacolare, no? L'inno della carità. Anche se io facessi tanti miracoli, se parlassi le lingue, tantissime opere, ma se non ho la carità, la carisseia, la grazia gratuita di Dio, non ho niente, non ho l'amore. Perciò, dice, nell'udire ciò, i pagani si ralgravano e glorificavano Dio perché per loro il cielo era chiuso o quello che sentivano parlare degli ebrei era la salvezza di un Dio misericordioso, un Dio onnipotente, ma che li escludeva loro. Invece l'annuncio che stanno portando gli Apostoli è tutto il contrario, che la salvezza viene da questa, questa universalità della parola di Dio. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Che bellissimo. Allora essi, contro di loro la polvere dei piedi, hanno scossa la polvere. Volendo dire, ricordate che la polvere significa il paganesimo, il rifiuto della parola. Cioè, noi non ci vogliamo contaminare da questo e se ne sono andati ai coni. I discepoli senti questo. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Quando tu preghi, tu finisci con gioia, pieno di Spirito Santo, quando tu vai a mese, quando ricevi l'Eucaristia, quando ascolti la parola, quando confessi i tuoi peccati, tu sperimenti questa pienezza di gioia o torni a casa uguale o peggio come sei andato. Ecco perché, fratelli, che venga lo Spirito Santo su di noi, che ci aiuti. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia.